buono buono ragazzi 3 a 0 a lecce e vi dirò questa partita non era scontata la vittoria sebbene per gli obiettivi che vuole raggiungere sia una cosa un po contraddittoria però se guarda gli obiettivi che vuole raggiungere questa vittoria ci deve essere ma dopo la arcinota partenza che abbiamo avuto quest'anno non era una cosa assolutamente scontata partiamo dal fatto che abbiamo fatto una partenza molto da milan perché i primi 20 minuti abbiamo ottenuto i ritmi bassi non abbiamo fatto il non abbiamo visto quello che volevamo vedere però poi milan ha avuto questi cinque minuti dove ha fatto tre gol bei gol bei gol assolutamente e uno di lapina uno di calcio piazzato insomma uno di prepotenza dove ha giocato bene e si è chiuso la partita quando inizio stagione o al meglio mettiamo le cose in chiaro l'anno scorso mi incazzavo partita dopo partita dicendo eh queste partite vanno chiuse mezz'ora e poi la partita va gestita questa è la partita modello è vero la partenza è stata un po quello che è stata però poi cosa è successo che tu sei andato lì ti sei risolto la partita in cinque minuti e tutto quello che è successo dopo compresa quella espulsione veramente pagliacciosa di Bartesaghi ti sei seduto un secondo e ti sei guardato la ti sei guardato la partita giocando nel senso hai capito che il loro gol non avrebbero fatto tu tu hai fatti ti sei gestito la partita questa era la partita che volevo vedere contro le piccole perché con una squadra così non dico che è l'obbligo di vincere il campionato però ci devi puntare fino all'ultima giornata e queste partite partite che l'anno scorso non avremmo vinto perché vi ricordo a lecce che si andò sopra 2 a 0 poi ci rimontarono l'anno prima addirittura al contrario queste partite come quella col venezia come purtroppo anche quella con parma e torino che non sono andate come volevamo pensavamo speravamo devono essere quelle partite che tu vinci ancora prima di scendere in campo poi il calcio è imprevedibile può succedere di tutto un episodio che ti cambia la partita a livello mental a livello fisico tutto quello che vuoi però diciamo che di norma queste partite sono le partite che tu non devi chiedere niente a nessuno devi solo andare lì a macinare a rompere i coglioni e ha portato a casa la partita Milan che riconferma gli undici del derby ovviamente il risultato poi si è visto Milan che ha due punte funziona nonostante Abraham si sia mangiato due gol pazzeschi e uno poteva farlo non è stato servito da Tarnandez poteva essere il gol del 4 a 0 però comunque non abbiamo attaccanti non abbiamo Alland in campo non abbiamo Bappé non abbiamo Lewandowski ma abbiamo due punte che messe insieme due punte di fisico e uno anche di parecchia corsa ti portano ti tolgono i castagni dal fuoco poi magari ci sarà alcune quelle volte che non funzioneranno perché ci saranno però nel mentre e nel frattempo sono una coppa d'attacco per me più che valida anzi validissima se poi consideriamo anche gli esterni tipo informissima come Pulisic che 5 partite 5 gol e manco a FIFA ha maggior ragione poi spenderò anche due paroline sul Leo dopo oggi mi sono piaciuti tutti tutti da prima all'ultimo Fofana finalmente vediamo un mediano che fa diga che dice qua ci sono io e non si passa Rainders che così facendo può giocare 5-10 metri avanti e fare il 97% di passaggi riusciti a partita e io ragazzi io salverei questa parte di video per un domani dicendo che Rainders se continua così diventa il centrocampista più forte del campionato a mani stra-basse stra-basse ragazzi stra-basse ovviamente il centrocampista più forte del campionato non è lui al momento però con una continuità che comunque già anche l'anno scorso si era vista si erano viste le sue qualità secondo me è un obiettivo che può raggiungere anche prima di quello che pensiamo difesa bene Gabbia bene Tomori bene Teo bene Emerson che nonostante gli insulti che si è preso a Parma si sta dimostrando un terzino perlomeno affidabile e non ho chiesto di avere Hakimi sulla destra di avere Cafu 2.0 di avere uno affidabile e piano piano si sta dimostrando quello che stiamo cercando capitolo Leao forse il peggiore dei nostri Leao che che si interstardisce lui fa la giocata e la fa anche bella perché onestamente ha fatto delle due popò di giocate che che proprio fanno venire 70.000 erezioni nello stadio e tutto il resto a casa quando le fa però poi arriva il momento che bisogna tirare le somme ovvero scaricare la palla e lui inspiegabilmente guardate l'occasione che ha avuto al novantesimo tira si dribbla attacco difesa al centro campo arriva davanti l'area di rigore tira una ciabattata addosso a Falcone quando a Jovic di qui Ciukwese di là potevano essere serviti e avrebbero sostanzialmente rivendicato il gol di Okafor del derby e invece decide di di autosprecarsi così si sta autosprecando comunque sia ragazzi detto questo partite così il commento è è infimo è quasi scontato e sono molto felice sono felice sto vedendo una squadra in crescita non guarita perché io conosco benissimo il potenziale di questa squadra a meno per quanto riguarda quello che potrebbe fare in campionato Champions League non è roba che ci compete ma non per il Milan per italiane al momento sono consapevole del potenziale di questa squadra e se decide di mettere la testa a posto sia allenatore sia giocatori sia il gioco avremo da divertirci in caso contrario però vi avverto che a fare un passo indietro tornare fasti di Liverpool di Parma di Torino e di Roma con Lazio ci vuole poco e di lì la situazione sarebbe molto irrecuperabile ovviamente anche stasera il Lecce ha avuto le sue occasioni ha preso un palo sul finale ormai è tutto acquisito quindi poco importa ha giocato comunque una partita di carattere cioè a differenza del del Venezia che dopo letteralmente due minuti si è completamente arreso stasera il Napoli stasera il Lecce ha almeno provato a fare io penso che Lecce a livello di possibilità forse qualcosa di più poteva fare però non so neanche dire quanto onestamente e mi rincuora parecchio rivedere un Mina così dopo tutto quello che abbiamo passato tutta la stagione scorsa e sul finire e sull'inizio di questa domani uscirà la live reaction che monterò stanotte io vi voglio ringraziare like al video iscrivetevi al canale tutto quanto perché per me è importantissimo vi ricordo anche del social proibito TikTok che mi hanno chiuso il profilo sono rinato sono tornato più forti di prima e più forte di voi quindi attivate anche notifiche lì perché domani uscirà il video io ragazzi vi ringrazio like al video iscrivetevi al canale ci vediamo domani ciao a tutti e buonanotte